Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, come state? Spero che state bene. Qui è sempre Mr. Lob dal Minerva Studio e stasera parliamo ancora di autotune, parliamo di sporche, parliamo di chicche con l'autotune perché a me non piace chiamarle sporche. Ti faccio vedere come creare dimensione tra la voce lead dell'autotune e le chicche, che è un argomento molto molto interessante. E lo vedremo utilizzando un effetto dell'autotune molto interessante. Ma, se sei nuovo sul canale ti ricordo di iscriverti, azionare la campanellina in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre novità. Sul Minerva Studio escono video quasi ogni giorno, non quasi, ogni giorno settimanalmente, per tutto ciò che concerne i temi di Mixmaster, produzione del mondo rap, trap, urban, eccetera, ok? Ok? Se invece sei un veterano del Minerva Studio, sai benissimo che ora c'è la sigla. Vai con la sigla! Eccoci qua. Allora, ragazzi, ora andiamo a vedere come trattare le sporche in un ritornello con l'autotune. Questa è una cosa molto interessante, perché ormai, come diceva, come dice il mio mentore, J.D. Joshua dice, ok, la cosa importante del brano è sicuramente la lead vocal, perché è quella che è detta il messaggio. Però, ultimamente, c'è sempre più attenzione in quella che può essere definito l'arrangiamento vocale. Nei miei percorsi privati c'è proprio un modulo specifico sull'arrangiamento vocale, in quanto l'arrangiamento vocale, cioè mettere a posto le chicche, le sporche, fare i tagli, eccetera, eccetera, che contribuisce tanto a creare la lead, perché è la parte creativa del brano, è la parte che ti va a rendere il brano non, come dire, palloso, è sempre sullo stesso piano, ok? E oggi, in particolare, vedremo come io ho creato spazio tra la voce lead, che ti parla in faccia, e le chicche che gli stanno dietro, perché uno è un errore che, a mio avviso, fanno specialmente i giovani ingegneri del suono, quelli che giovani, siccome io è arrivato all'ultraottantenne, però quelli che hanno cominciato da poco, io intendo giovani in questo caso, l'errore che fanno è quello di andare a mettere sempre sullo stesso piano la lead vocal con le sporche. È chiaro che in alcuni pezzi può starci, però generalmente è una cosa che si concorda con il produttore e l'artista in questione, perché, di solito, almeno a me piace utilizzare le chicche, le sporche, tutto quello che è, le doppie, eccetera, per creare spazio, per creare ambiente dietro alla traccia. Bene, ora, bando alle ciance, andiamo a vedere un pochino di che cosa si tratta. Allora, io ho spento tutta la musica, per cui ora andranno solamente il ritornello e le chicche. No, why not? Ok, e queste qua sono le sporche. Ok, creare questa atmosfera ambient che sta andando tanto ora nella musica trap, ma giustamente vedi come i momenti, che chiamo momenti, qua, i momenti vanno a dare qualcosa in più, è chiaro, alla traccia, però vanno saputi trattare. Allora, come ho fatto le chicche? Prima cosa, questo è il plugin che vi salva la vita, che ti salva la vita se impari ad usarlo bene, perché ha un sacco di effetti già preimpostati, anche da ingegneri come McDean, eccetera, eccetera, che però sono delle combinazioni che hanno creato loro, che di per sé, in maniera molto veloce, ti danno un quadro completo di quello che è il pacchetto generale. Cioè tu con un solo plugin fai autotune, saturazione, vocoder, filtro e a volte anche spread. Quindi è una cosa che nelle sporche, nelle chicche, in tutte le cose che devi essere creativo, veramente ti consiglio vivamente di utilizzarlo per due ragioni, uno fai prima in un solo plugin e tutte le robe, due perché suona bene. Per cui, prima cosa da fare, come ogni autotune, si imposta l'autotune, tipo soprano, vabbè, chiave, do minore, il pezzo in do minore, return speed al massimo, perché è chiaro che in questo caso, almeno, io voglio ottenere un autotune abbastanza spinto, perché voglio dare proprio l'effetto autotune robotico. Il delay per il momento lo spegniamo. Quindi, qua, sono andato nel bank di McDean e ho preso il preset Weavey. E questo è il preset. Ok, ho tolto il duet perché non mi interessava. Il duet praticamente è un vocal spread che ti spreada le voci a destra e a sinistra completamente, però ti fa perdere tanta presenza e a me in questo caso non mi interessava. Per cui ho spento il duet. Punto di forza anche questo, di questo plugin qua, che tu velocemente puoi vedere, spegni, accenti, muti, e vedi quello che fa per te, quello che è il tuo colore. Ok? Poi filtro. Qua è una matrice XY, quindi muovendo questo cursore tu puoi mantenere la stessa frequenza di taglio, però aumentare la Q, quindi fare una Q un pochino più larga, un pochino più stretta, naturalmente ti va a incidere sulla risonanza del pezzo. Poi vedi, qua c'è il Drive Gain, di solito qui è di default, di preset, però il drive era un po' troppo, per cui sono tornato indietro per dargli meno drive, altrimenti veniva la voce troppo distorta e non mi piaceva, e poi qua c'è il vocoder che l'ho lasciato così com'è. Però insomma capisci che è un plugin molto intuitivo, perché tu attraverso questo joystick, di per sé un joystick, muovendolo riesci a capire quello che è il tuo colore preferito, che ti serve di più. Perfetto. Quindi, primo plugin, AutoTune FX. veramente consigliatissimo. Secondo plugin, mono delay, un mezzo di un po' che fa. Delay, senti? Ok. Per andare a creare mood e atmosfera, poi, ora, l'ho ascoltato finora con le mandate, mettiamolo senza mandate. Ok, quindi così è la voce senza effetti. Mandate, effetti, stessa cosa, perché le mandate sono, vabbè tranquilli, ci siamo capiti. Che tipo di reverberi abbiamo utilizzato? E ora tu potresti chiedermi, ma perché non hai messo il delay in mandata, in questo caso l'hai messo in insert, ma di solito il delay non si mette in mandata, sì, si mette in mandata, però qui per fare prima l'ho messo in insert. Perché quando si tratta di sporche, doppie, eccetera, eccetera, non è che c'è bisogno di mantenere una presenza massiccia. ok, quindi per fare prima io li metto in insert. Sulla voce principale, non so, perché qual è il problema? Il problema è che noi più mix diamo, più ci gestiamo il parametro dry-wet, e più energia perdiamo del segnale principale. E quindi se io perdo energia del segnale principale sulla lead, questo non me lo posso permettere, sulle sporche anche sì. ok, quindi, primo riverbero, riverbero. Vediamo se mutiamo, ok. una church, riverbero molto lungo, che mi va a creare ambient, e poi abbiamo messo un dreamy verb. Vediamo un pochino. No. Perché è un mix abbastanza complicato, quindi è chiaro che se io metto in muto la CPU viene stressata di più, perché deve mutare. E' questo il dreamy verb, che è questo, ve lo faccio vedere, te lo faccio vedere, vedi il dreamy verb. questo riverbero qua, e quello che va a fare, mi va a creare proprio vum. Diciamo che, la profondità me lo prendo con la chiesa, col church, è abbastanza lunga, invece con questo riverbero qua, mi vado a fare proprio lo spread, cioè, la voce è pam, mi va a destra e a sinistra. E questo è uno. Qua bisogna giocare molto di fader rispetto alla voce principale per trovare la giusta collocazione, ma soprattutto con i riverberi. Perché il riverbero è quell'elemento del mix che mi crea la percezione spaziale dell'elemento. Per cui, se io devo mantenere in faccia la voce lead, ritornello in questo caso, in faccia, ritornello, le sporche mi devono andare dietro, questo è il ritornello, le sporche mi devono stare dietro, mettiamolo così, ok? Questo è il ritornello, le sporche mi devono stare dietro, è chiaro che io questo dietro non lo devo gestire con i riverberi. Benissimo. Ora andiamo a vedere le seconde kick, che questo è... Anche qua, Autotune FX, stesso pattern, perché il colore che volevo mantenere era lo stesso, forse... No, no, è proprio lo stesso, è identico. Tu qua puoi giocarti magari sul filtro, puoi cambiare il taglio del filtro, puoi cambiare il grado di saturazione, quindi creare un pacchetto un po' più saturo, un po' più distorto, ma dipende, veramente qua dipende da... dipende da quello che vuoi fare, cioè, poi, la creatività non ha limiti, però in questo caso io volevo mantenere lo stesso... lo stesso pattern, anche qua, vedi, delay, sempre un mezzo. Scusa, allora, questo... Ma io che sto guardando? Fammi vedere che sto guardando. Ah, ecco, no, infatti, non è lo stesso, sto guardando sempre quello di prima. Eh, vabbè, capita. Allora, andiamo a vedere un pochino cosa ho fatto. Prima cosa, taglio sulle basse. Un po' di pulizia. Poi... Ok, il compressore, il Pro C2, qua, mi è servito per metterlo... Ok, qua, questo compressore io l'ho utilizzato solamente per dargli un po' più di presenza, ok? Perché il discorso è tu gli dai presenza col compressore e poi te lo sposti dietro con il riverbero. Ed è diverso la percezione che si ha, questa veramente, è una chicca che vi do gratis, però vabbè, oggi sono svegliato buono, magnanimo. è diverso se tu comprimi una voce, gli dai la presenza e poi la sposti dietro con il riverbero piuttosto che una voce non compressa quindi non è la presenza che però viene sposta da dietro con il riverbero. La percezione sonora, la percezione sonora ma anche spaziale del suono è totalmente diversa perché una ti rimane ferma e sposta da dietro invece l'altra ti viene semplicemente sposta da dietro ok? C'è un passaggio in me però vabbè. quindi questo è così il delay sempre in mezzi ci deve essere e qua l'autotune che ho utilizzato è stato il vari audio di Cubase tirato a stecca in questo caso ecco non volevo creare effetti strani volevo semplicemente una voce robotica quindi a posto è proprio interessante creare come ti dicevo prima questa differenza fai una voce la fai potremmo dire stilisticamente stilisticamente in un modo dal punto di vista del tono e l'altra voce la fai in un altro modo dal punto di vista del tono quindi i due toni ti creano differenza e la differenza ti aiuta a non rendere il tuo mix monotone sempre lo stesso che sia differenza spaziale da lei diversi o differenza di tono comunque comunque differenza è ok e in questo caso vedi i riverberi sono diversi che ho utilizzato qua il church è sempre lo stesso però è diversa la quantità qui ho dato più church perché siccome la voce è stata compressa e quindi messa in una posizione di rilievo mi serviva per creare quell'effetto del mio goal che mi sono previssato cioè il ritornello avanti voce dietro chicche dietro mi serviva a creare più spazio e quindi ho dato più church e poi c'è il mitico rum e cioccolato che è una mia ricetta speciale che insomma spiega ai miei studenti privati ovviamente la quale dal punto di vista spaziale va a dare veramente veramente tanto 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 spazio e quindi quando devo creare delle diversità di presenza tra voce lead e chicche doppie quello che è insomma questo è spettacolare ti faccio ascoltare siamo delle chicche nota senza ora con guarda cosa fa rum e cioccolato ok se fantastic se fantastic se fantastic ok bene e questo è quanto ti faccio ascoltare con il ritornello per vedere appunto la percezione che si hanno avanti dietro che si sono pesa attentamente attentamente per la mia gente per la mia gente ok quindi si ha la percezione del ritornello in faccia e queste chicche che gli girano intorno molto molto interessante molto utile bene anche per stasera abbiamo fatto quello che dobbiamo fare spero che questo video ti sia stato utile e fammelo sapere qui nei commenti se ti è stato utile magari chissà un tuo commento potrebbe essere argomento di un mio prossimo video inoltre ti ricordo di iscriverti al canale accendere la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i nostri contenuti bene io lo so che tu sei curioso di sapere cos'è il rum e cioccolato come si fa a fare il rum e cioccolato io lo so che tu sei curioso di saperlo se sei curioso di saperlo prenota una consulenza totalmente gratuita con me in cui andremo a vedere quello che è il tuo livello di partenza andiamo a vedere dove vuoi arrivare e faremo un percorso personalizzato in base a ciò che ti serve ok ci facciamo una bella chiacchierata io e te mister lo e chiunque tu sia in descrizione trovi l'email dove poterti prenotare per una consulenza con me poi c'è Monica che ti dà tutte le le definizioni quindi non ti preoccupare anche per stasera è tutto ci vediamo alla prossima ciao chiuso nel Minerva studio cucino sto mix cucino sto beat c'è lo beat ho fra dei mutton ti caccia la hit ti caccia la hit